Questi che sono poi i numeri del Parlamento, perché effettivamente la narrazione di Giorgio Meloni delle forze della destra che vincono, poi che sono aumentate, questo è un dato di fatto sicuro, ma cozza però con quelli che poi sono i numeri che sono questi qui del Parlamento. Il nuovo Parlamento europeo vede sostanzialmente i veri trionfatori, che come si diceva sono del Partito Popolare Europeo, che guadagnano rispetto alla legislatura precedente più sette. Sicuramente l'ECR, che è il gruppo di Giorgio Meloni, più 25. Non dico una debacle, ma quasi siamo lì, il partito a cui fa riferimento Matteo Salvini e Marine Le Pen, in Europa meno 15, poi magari trionferanno in Francia. Ma intanto alle elezioni europee il successo delle destre non c'è stato. Viceversa Ursula von der Leyen non ha bisogno al momento dei voti della destra. Gli potrebbero fare comodo per essere più solida, ma al momento non ne ha bisogno. Diceva bene Massimo Franco, alla fine bisogna fare i conti con i numeri europei, con i numeri del voto non in Italia, perché in Italia Giorgio Meloni ha avuto un'ottima affermazione, ma con i numeri europei. E lì le destre sono cresciute globalmente, ma non al punto da mettere in discussione l'egemonia dei popolari e dei loro più immediati e più ovvi alleati, cioè i socialisti e i liberali. Diciamo anche una cosa, David, rispetto a quei numeri. Alla fine è successo un po' quello che ci si attendeva, cioè un rafforzamento delle destre, ma marginale, e però un mantenimento del perno dei popolari, che anzi hanno aumentato i seggi, sia rispetto alle elezioni di cinque anni fa, sia rispetto ai deputati uscenti alla fine della legislatura appena conclusa a Bruxelles. La cosa che dobbiamo sottolineare è che i risultati della destra sono stati importanti in alcuni paesi più che in altri, penso alla Francia, ma alla fine se guardiamo agli effetti del risultato francese, dell'exploit di Bardellà e dell'Assemblea nazionale, vediamo più effetti sulla politica interna francese che sugli equilibri europei. Gli equilibri europei restano sostanzialmente quelli della legislatura precedente. Allora, Elena...